Finanziare a 2008 per le imprese, l'IRES e l'IRAP diminuiscono ma torna la tassazione su plus valenza. Si prospetta un 2008 all'insegna del risparmio per le imprese, scende a quota 3,9 l'IRAP che viene separata completamente dal bilancio e diventa sempre più chiaramente un'imposta regionale, spiega Visco, mentre passa dal 33 al 27,5% l'IRES, l'imposta sui redditi delle società. Come riportato dal notiziario dell'Agenzia delle Entrate, infatti, tornerà al 5% la percentuale di partecipazione al reddito delle plus valenze esenti. La disposizione si applicherà a quelle realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Resterà comunque ferma all'84% l'esenzione per le plus valenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1 gennaio 2004.